Se la città di Fano aspira alla candidatura a Capitale della Cultura 2022, Passaggi Festival si conferma un ottimo biglietto da visita. Più di 100 ospiti e 60 appuntamenti racchiusi in 5 giorni quasi tutti sold out. Non c'è che dire, il Festival della Saggistica piace sempre più e la sua ottava edizione sembra voler mostrare come Libre Cultura, da godere in sicurezza, siano un potentissimo vaccino a un coronavirus che ha messo in ginocchio molti altri eventi dell'estate. Non Passaggi Festival, che da mercoledì 26 a domenica 30 agosto ha già riempito, ancora prima di cominciare, piazza a 20 settembre e sta assiepando anche tutti gli altri luoghi cittadini coinvolti nella vasta programmazione, dalla Mediateca a Montanari alla San Francesco, dal Pincio al Bonbon Art Café. D'altronde il palinsesto è ricco e variegato, basti dire che a tagliare il nastro, mercoledì sarà il regista premio Oscar Oliver Stone, che presenterà la sua biografia in un tour marchigiano che comincerà a Pesaro e continuerà a Senigallia. Da una stella di Hollywood a un nastro allucente del giornalismo italiano come Corrado Augas, che completerà la serata inaugurale col suo breviario per un confuso presente. Questa l'over tour di una Kermess ideata e diretta dal giornalista Giovanni Belfiori, che ha apparecchiato un menù per tutti i gusti. Dalla poesia al fumetto, dalla narrativa al teatro, dai grandi consumatori di libri fino ai bambini. Si va dai maestri del fumetto Giacinto Gaudenzi e Filippo Scozzari agli ex magistrati Giancarlo Caselli e Guidolo Forte. Si passa dalla DJ Ema a Stoccolma alla biografia di Bud Spencer raccontata dalla figlia Cristiana Pedersoli a Tiberio Timperi. Dal volto e la voce nota di Linus a star della musica indie e del web come Giovanni Truppi e il terzo segreto di Satira. Un elenco lunghissimo che si srotola fino a Nando dalla chiesa Gianluigi Nuzzi e naturalmente ai premi. Giorgio Zanchini riceverà il premio Andrea Barbato per il giornalismo 2020, mentre il premio Passaggi 2020 sarà assegnato all'editore e grecista di fama Nicola Crocetti. Proprio Crocetti sarà protagonista di una ricca domenica di chiusura completata dallo storico Valerio Massimo Manfredi e dal pianista e compositore Giovanni Allevi. Particolare non indifferente tutti gli eventi sono gratuiti, c'è l'obbligo di mascherina e l'obbligo di prenotazione, anche se i posti disponibili sono sempre meno.